Finalmente, se così si può dire, una buona notizia dalla casa di riposo di Sottomarina. I tamponi effettuati dall'Ulstra e Serenissima avevano evidenziato la scorsa settimana ben 46 ospiti positivi e così 37 tra infermieri e operatori sanitari. I test successivi, praticati negli ultimi giorni, hanno permesso di riscontrare che il contenimento è in atto e sta avanzando in maniera veloce e favorevole. Ne dà notizia il presidente del Consiglio di Amministrazione dell'IPAB, Andrea Giovanni Zennaro, in un dialogo video con Chioggia Azzurra. A oggi, conferma il presidente, gli anziani positivi sono 17, di cui 10 presenti negli stabili di Via del Boschetto e di Via del Tirreno. Rispetto alle persone più giovani, i tempi del decorso sono più lunghi e si spera che anche questi 10 si possano negativizzare al più presto, seguendo le cure prescritte. Altri 7 sono invece ricoverati in ospedale. Per quanto riguarda invece il personale, non ho ancora i dati definitivi, continua Zennaro, ma il trend è molto buono e lascia sperare di poter tornare operativi al 100% in tutta la struttura. Gli operatori risultati positivi stanno trascorrendo tutti a casa la propria convalescenza. Il Consiglio di Amministrazione ringrazia intanto gli hotel Clodia e Sole per la disponibilità accordata ai sanitari negativi, ma in attesa di tampone di conferma, e trascorrere gratuitamente in albergo le ore esterne al lavoro, anziché rischiare eventualmente di infettare i propri cari. La difficoltà principale fin qui è stata recuperare i dispositivi di protezione individuale, come guanti e mascherine. Grazie all'Ulstray e agli investimenti interni, dice il Presidente Zennaro, oltre alle generose donazioni, siamo comunque riusciti a far fronte. Inizialmente erano appena sufficienti, mentre oggi siamo operativi con tutto il materiale necessario, anche se il numero non infinito, specie qualora dovessero aumentare di nuovo i casi di positività e quindi si renda necessario attrezzare l'isolamento. Andrea Giovanni Zennaro ha iniziato la propria esperienza amministrativa da Presidente quasi a ridosso del divampare del virus. E' andata peggio il direttore Antonio Rizzato, sorride il Presidente, è entrato in ruolo proprio il primo marzo. Sono momenti tristi che danno forza agli operatori, come hanno potuto riscontrare i familiari di coloro che se ne sono andati e che pure li ringraziano per tutto ciò che hanno potuto fare. Al Centro Servizi per gli Anziani, conclude Andrea Zennaro, l'ospite è diventato come un familiare per ogni persona che lavora qui, dal momento che vivono in simbiosi per gran parte della giornata, creando relazioni umane più strette. Continua anche all'ospedale di Chioggia, oltre che al centro Covid di Dolo, l'accoglienza ai pazienti positivi al coronavirus. Nelle ultime ore in particolar modo due persone hanno avuto necessità di un ricovero. Tra esse è una donna di 65 anni che dalla mancanza di respiro è caduta a terra, fratturandosi anche il femore. Sono in tutto 229 positivi nel territorio comunale dall'inizio dell'epidemia, compresi coloro che sono guariti e purtroppo 26 deceduti. Ammonta invece a 489 il totale dei chioggiotti in stato di isolamento domiciliare, sempre dall'inizio del contagio, per essere entrati in contatto stretto con persone positive. Anche a Cavarzele viene registrata una nuova positività, che porta la somma nel paese a 10 casi, tra cui uno perfettamente guarito e purtroppo un decesso, quello di Domenico Stevanì in località Bebbe, lo scorso 18 marzo. Nei giorni scorsi dall'ospedale di Mirano è tornata a casa la moglie dell'86enne, che pur era stata ricoverata per Covid-19. Anche lei, come marito scomparso per polmonite, aveva forti relazioni con la rifrazione di Cabianca. Intanto la Questura di Venezia ha comunicato gli esiti dei controlli svolti dalla Polizia di Stato fino al 15 aprile scorso per assicurare il rispetto delle prescrizioni governative e regionali. Nell'area metropolitana gli agenti dei commissariati hanno controllato oltre 73.000 persone, con 3.445 fra sanzioni e denunce. Le verifiche nelle imprese sono state poco più di 100.000, con 32 sanzioni e 26 denunce. Il coronavirus non ferma i lavori del Mose. È la stessa provveditrice alle opere pubbliche del Veneto, Cinzia Zincone, a sollecitare il rispetto dei tempi di consegna, senza alcuna dilazione. In un articolo pubblicato stamane dal Corriere del Veneto in Edicola, a firma di Alberto Zorzi, la provveditrice lancia un appello affinché vengano accelerate le opere complementari e quindi ridotti i tempi delle compensazioni ambientali, che riguardano ad esempio anche l'intera batteria San Felice a Sottomarina. La Zincone si è scontrata nei giorni scorsi con i commissari del Consorzio Venezia Nuova, Giuseppe Fiengo e Francesco Ossola, i quali avevano lanciato l'ipotesi di una proroga che andasse oltre il 31 dicembre 2021, quale termine per la consegna dell'intero impianto. Il provveditorato alle opere pubbliche, invece, spinge per il completamento delle dighe immobili entro il prossimo 30 giugno, dal momento che i test hanno dato prova di funzionamento e occorre provare anche con il mare mosso, come inizialmente programmato. Di pari passo, secondo Cinzia Zincone, devono procedere contemporaneamente le opere di compensazione, tra cui il recupero complessivo del waterfront del Forte San Felice. La consegna definitiva di queste ultime, secondo i commissari, sarebbe dovuta avvenire nel 2023, ma per la Zincone è necessario che tutto il progetto trovi compimento entro la fine del 2021, mettendo al lavoro tante piccole imprese appaltatrici del territorio. In sede giudiziaria, intanto, prosegue il contenzioso pendente tra il Consorzio Venezia Nuova e l'impresa al lavoro nella prima parte delle opere del Mose. Alcuni lavori, infatti, risultano non eseguiti a regola d'arte, come la conca di navigazione di Mariamocco, rivelatasi troppo piccola, oppure la lunata del Lido, cui aveva lavorato anche la Coedmar, crollata in mare pochi giorni dopo l'inaugurazione. I commissari Fiengo e Ossola hanno chiesto centinaia di milioni di danni, soprattutto l'azienda Covela-Mantovani, protagonista di molti interventi. Si è conclusa venerdì sera l'opera di asfaltatura in via Granatieri di Sardegna, a Borgo San Giovanni, tra il Cavalcavia e via Stazione. I lavori erano iniziati l'8 aprile e sono terminati con una settimana di anticipo rispetto alle previsioni indicate per il giorno 24. Il traffico tuttavia non è stato interrotto, bensì regolato per stralci attraverso semafori temporanei e movieri. Il Comune ha approfittato delle scuole chiuse e quindi della minor circolazione da e per la cittadella di Borgo. Il prossimo passaggio sarà il rialzo dei passaggi pedonali e il prolungamento della pista ciclabile, che dal Ponte Cavani si arriverà fino all'Istituto Tecnico Cestari. A tal proposito il Circolo di Rifondazione Comunista osserva come l'ampiezza della strada si è perfetta per ospitare due piste ciclabili ai lati per proteggere dal traffico a motore i numerosi ciclisti che la attraversano e che sono stati vittime di diversi incidenti. Occorre già pensare, si legge nella nota, alla città post-Covid-19, che sia in armonia con il paesaggio tra terra e acqua, tra urbanizzazione e campagna, dove spostarsi sia sostenibile. Non basta il Lusenzo, Chioggia deve rendersi interamente ciclabile. A partire da domani, lunedì 20 aprile, le due lutecche comunali di Chioggia di Sottomarina e i relativi centri di aggregazione giovanile hanno organizzato una serie di attività a distanza per i bambini e i ragazzi che erano abituati a frequentarle prima del blocco e per tutti coloro che fossero interessati ad avvicinarsi e conoscerle. Il punto d'incontro di Via Zarlino a Chioggia e la mongolfiera di Calle della Cesetta a Sottomarina si rivolgono all'infanzia nell'età della scuola primaria con offerte ludico-creative. Due volte alla settimana saranno inviati attraverso la messaggeria WhatsApp i tutorial per facili creazioni di laboratorio e video contenenti letture animate e giochi. Inoltre, per i genitori, attivo lo sportello d'ascolto a cura di un educatore che sarà a disposizione per colloqui personali e suggerimenti adeguati ad affrontare il momento. Lo sportello è operativo il martedì dalle ore 17 alle 19 per Chioggia al telefono 338-711-9111 mentre giovedì per Sottomarina al telefono 335-1781689. Per quanto riguarda i centri di aggregazione giovanile riservati agli studenti della scuola secondaria di primo e secondo grado due volte alla settimana, sempre via WhatsApp riceveranno link con suggerimenti di attività e incontri nelle piattaforme digitali per condividere il lavoro di tutti. Sarà attivata anche un'aula studio virtuale su richiesta dei ragazzi stessi. Grazie. Grazie.